Alla sfida del contratto istituzionale di sviluppo area sisma arriva una massiccia risposta di partecipazione e di progettualità da parte di quei territori marchigiani piegati dal terremoto. La regione Marche infatti nelle ultime settimane si era resa protagonista di una forte azione di stimolo nei confronti degli amministratori locali del cratere affinché alla ricostruzione fisica si abbinasse anche una strategia di sviluppo socio-economico nell'area sisma. Ne sono usciti quasi 130 progetti potenzialmente meritevoli di 910 milioni di finanziamenti. La risposta dei comuni del cratere è stata veramente molto convincente, hanno voluto dare una risposta concreta a ben 900 milioni di progetti che attraversano tutte le cinque tematiche che il Ministero per la Coesione ha individuato come potenziali destinatari dei finanziamenti del contratto istituzionale di sviluppo. C'è voglia, c'è fermento, c'è vitalità e in particolare mi sembra giusto sottolineare come molti comuni si siano messi insieme. Fare rete sembrava un'utopia, invece il CIS ti dimostra che la maturità della classe dirigente del cratere è molto avanzata. La regione Marche ha costituito un gruppo di lavoro, un gruppo tecnico che preventivamente ha anche indicato quelli che sarebbero stati i criteri per aggregare e organizzare i finanziamenti e le progettualità. Tutti i progetti, quasi 130, sono stati dichiarati idonei a ricevere il finanziamento, sono stati graduati e trasmessi a Invitali, a cui spetta un compito istruttorio di organizzare per l'appunto quelle che saranno le procedure di selezione. Poi toccherà alla cabina di coordinamento dare l'ultima parola. Ora la possibilità di finanziamento entrerà in una fase selettiva perché il CIS per dimensioni economiche potrà coprire solo una parte delle progettualità proposte, ma attraverso altri strumenti è intenzione della regione dare la più ampia copertura alle istanze dei comuni. 900 milioni di progetti, ma appena 100 milioni di finanziamento per il contratto istituzionale di sviluppo, quindi diciamo che sarà solo una parte quella della progettualità messa in campo che potrà avere materialmente e subito un finanziamento, però nessuno si deve scoraggiare perché fortunatamente c'è anche il piano nazionale di ripresa e resilienza per la parte SISMA. 1 miliardo e 780 milioni che saranno devoluti anche a una valutazione della cabina di coordinamento del SISMA, quindi noi siamo dell'avviso che laddove non sarà possibile con il contratto istituzionale di sviluppo finanziario vi sarà questa seconda possibilità, questo secondo round anche molto consistente. L'importante è la qualità del progetto, l'importante è voler assumere come criterio orientatore della nostra azione il fatto che fatta la ricostruzione fisica dobbiamo comunque pensare alla rigenerazione socio-economica del cratere per evitare che una volta ricostruite le case queste restino drammaticamente vuote perché nel frattempo l'economia si è disidratata, dobbiamo evitarlo, il Presidente Acquaroli è dell'avviso di mettere in campo tutte le energie possibili perché questa rivitalizzazione venga sviluppata contestualmente alla ricostruzione.